Non pensavo che potesse accadere una cosa del genere perché fino al 2-0 nostro è stata una partita ottima. Prendere gol così certamente significa che eravamo usciti dalla partita, che non c'erano più gli equilibri e le distanze giuste. Una partita chiusa e riaperta in un minuto è quella pareggiata sabato dal Bari a Piacenza con la Feralpi Salò, ultima della classe, tra il gol di Sibilli, Valso il 2-0 e l'autorete di Capitan di Cesare sono passati poco più di 60 secondi. Una slide indoor che l'allenatore bianco-rosso Pasquale Marino commenta così. Fino a quel momento avevamo fatto una partita forse la migliore come interpretazione, tenevamo palla, avevamo la pazienza di arrivare, di palleggiare e poi arrivare negli ultimi metri. Siamo arrivati tantissime volte con Ricci, con Torval, sugli esterni abbiamo messo tanti palloni in mezzo. Anche l'azione del gol, oltre al rigore sbagliato, è stata ben interpretata con movimenti che abbiamo preparato. Non prendeva almeno tre gol dall'ultima partita giocata l'anno scorso in regular season, il Bari, 4-3 sul campo del Genoa, in un incrocio che non aveva però significati per la classifica. Sul pari di Piacenza incide anche l'azione che ha portato al provvisorio 3-2 Lombardo, viziata da un blocco di Balestrero su Dorval. Se nell'azione del gol, che poi va a finire, che fa gol, c'è un fallo così netto che abbattono proprio a Dorval, credo che si debba rivedere, la decisione di campo ci può stare, però se l'azione finisce con il gol, penso che sarebbe stato corretto andarla a visualizzare. In questo momento a me parlare di questi episodi non va bene, nel senso che dobbiamo correggere i nostri errori, su quello non possiamo farci niente, su quello che abbiamo fatto oggi dobbiamo sicuramente reagire bene e lavorare anche sulla testa, perché è un peccato lasciare punti per strada quando la strada era tracciata in una certa maniera. Non è arrivata la terza vittoria di fila dopo quelle su Brescia e Ascoli a Piacenza, e invece è maturato il primo gol in Serie B di Ismail Aschik, una giocata quasi chiamata alla vigilia in conferenza stampa dall'allenatore, arrivata con la squadra disposta con un 4-2-4 a trazione anteriore. Ci siamo un po' sbilanciati anche, abbiamo fatto un 4-2-4 diciamo pure con Sibili, uno dei due centrocampisti, quindi per cercare di rimediare. È andata bene e sono contento per il ragazzo che si è fatto trovare pronto. Alla sosta del campionato il Bari ci arriva da decimo della classe con 18 punti, 8 di questi sono arrivati nella gestione Marino, frazione di stagione in cui la squadra ha anche superato il tabù San Nicola. Proprio dallo stadio Amico si ripartirà sfidando sabato 25 novembre un Venezia lanciato e secondo in classifica banco di prova che Marino attende con attenzione. È stimolante incontrare una squadra candidata alla pronunzione diretta e quindi abbiamo la possibilità di lavorare per 15 giorni prima di questa partita, dobbiamo lavorare su certi correttivi dal punto di vista tattico, ma soprattutto non possiamo commettere dal punto di vista mentale una metamorfosi così solo perché abbiamo subito in gol. Grazie 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 Grazie